ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video di minecraft se sono agitata ragazzi perché un mio villager si è trasformato in un mostro in un mostro terribile in uno zombie e c'è un modo per curarlo allora è molto facile bisogna creare una pozione pozione quella la strana dai veloce ma perché così lento dovrò farlo più veloce maledetti ok briga cittino resisti è un mio telaio dobbiamo aiutarlo per forza ok ok ora dobbiamo fare questo poi mettiamo la gun power powder e la facciamo diventare lanciabile ok ragazzi molto facile così diventa pozione di debolezza vero sì sì mi sembra di debolezza sì di debolezza sì pozione di debolezza meno uno di attacco do ok ora dobbiamo farla diventare lanciabile non credo che da 8 minuti c'è devo farla no meno 3 di attacco musica amico davo meno uno meno tre va bene ok ma basta una adesso ok ragazzi ok ragazzi allora sono nel mio laboratorio sì adesso andiamo a casa ok mio dio che bello il mio banillo va in centro adesso che la mia banilla è bella adesso dobbiamo solo concentrarci ora ragazzi abbiamo via questo abbiamo bisogno di una mela 63 mele perfetto una mela d'oro beh dobbiamo farci una mela d'oro eccolo la poverino e il tino si chiama tino se vi chiedete come si chiama tino si chiama tino arrivo ti salvo io lo dobbiamo salvarlo tino quanti 10 perfetto ne sono 9 ok crafting ok 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 la mela d'oro ragazzi si crafta con una mela al centro mettete tutti i lingotti ed eccola qui la bella d'oro la vorrei mangiare se perché non ne ho mai mangiata una no scherzo avete visto nel video del video che l'ho mangiata non c'è il tino tino è molto meglio è molto più brutto di voi si tino è molto più brutto lo so i zombie villager sono più brutti tino mi dia che sei morto tino è bello di questa pozione siiii 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 oh no ho il debolezza è bene così quanto ci metterò a tira a uccidere uno zombie 200 anni sicuro no due colpi oh man però o meno tre di attacco ok ninonino dovrebbe diventare tra un po' di tempo un umano ah intanto noi dobbiamo uccisere uno zombie sta tremando perfetto se trema è perfetto ma l'ha detto zombie che l'ha ucciso aia aia tino resisti resisti lo sto facendo nella vita reale nella mia vanilla dal vivo ok dovrebbe durare un bel po' mi sembra che dura un bel po' ma tino tino ok tino resisti 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 oh uh respira si 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 non ti preoccupare sono un po' contento sono un po' contento ok tu sei zombificato ma io ti aiuto non l'ho mai fatto l'ho sempre fatto in creativa ma ora te lo faccio in survival per tino per te mi è finito finalmente sei lento aia è sempre stato lento a creare i suoi standardi e sei lento ma io mi fido che esiste tino entro più nella tua gabbia che esiste tino io ti voglio bene tino io siiii tino è tornato normale yoohoo tino eeeh ti ho salvato eeeh guarda che mi fai lo sconto perché io non ho ero del villaggio non ho fatto raid e lui te l'ho salvato tino da 12 a 10 e no questo non è uno sconto non puoi darmi da 10 a 12 vabbò però me la cesoria bene bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivedremo nella prossima puntata salutatino ciao come ha detto lui ciao 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 ciao